Buongiorno, il messaggio di oggi è cambiamento nel lavoro. Il tuo sentiero lavorativo conduce a una direzione più elevata, con cambiamenti positivi che ti consentono di realizzare i tuoi sogni, le tue passioni, le tue priorità e il tuo scopo di vita. Questi cambiamenti ti aiuteranno a lasciare il vecchio e ad accogliere il nuovo. Sei sostenuto in ogni passo del tuo cammino. Questa carta annuncia un cambiamento positivo nella tua carriera. Andrai verso una direzione migliore in linea con le tue convinzioni e passioni autentiche. Niente più sofferenze solo per guadagnare uno stipendio. D'ora in poi lavorerai da uno spazio di verità interiore. Il cambiamento in vista richiede molta fede e fiducia e questa carta ti assicura che finché continuerai ad agire seguendo la guida del cielo, riceverai sostegno. Modificare la tua vita in modo che sia più centrata nel tuo cuore ha un effetto positivo sulle finanze. Le spese diminuiscono perché non cerchi più di acquistare cose per sentirti felice. Essendo una persona più felice attrai più persone che vogliono lavorare con te come clienti, soci e così via. La tua attività ha successo perché è costruita sulla passione. Il cielo e gli angeli stanno guidando questo passaggio e non c'è bisogno di accelerare il processo forzandolo o cercare di controllarlo. Il tuo ruolo è quello di mantenere la mente calma e serena così da percepire chiaramente i messaggi del cielo e poi seguirli senza esitare o rimandare. Questo è il messaggio del buongiorno.